L'ondata di maltempo che era stata annunciata è effettivamente arrivata in questo fine settimana. Noi ci troviamo a Chiusi della Verna, quindi Alto Casentino, dove nevica da questa notte. Sta nevicando da stanotte, è iniziato verso la mezzanotte l'una e la zona interessata è Chiusi della Verna, quindi dove siamo ora, la Valle Santa, sempre nel comune di La Verna, arrivando fino a Badia Prataglia. La zona invece del santuario come è messa, che è un pochino più in alto? In alto, ancora sul santuario, c'è ancora più altezza di neve, però ecco la situazione anche lì, l'estate le teniamo sempre sgombre, sicché tutto sotto controllo, dove si può accedere e arrivare con tranquillità e sicurezza. State attivando, vediamo adesso, insomma, vedevamo prima in comune la macchina, diciamo appunto, della protezione civile, quindi mezzi spalaneve o spargisale, se serviranno? Sì, siamo già attivi, se poi serve rinforzare la situazione, se continua così, faremo anche quel tipo di interventi un pochino più eccessivi, proprio perché la situazione sia sempre sotto controllo e che si possa arrivare da qualsiasi parte senza problemi, questo è quello che dobbiamo garantire sempre. Senta, la sua comunità, ma soprattutto ovviamente il santuario dell'Averna con i frati, insomma, porteranno questo messaggio al popolo ucraino domani, tra l'altro con la processione, in processione ci saranno le reliquie di Papa Giovanni Paolo II. Sul santuario alle ore 15 e anche lì dobbiamo cercare di tenere le strade pulite, a modo che la gente che può e chi vuole partecipare sia in condizione di poterci arrivare senza grossi problemi. Neve anche nella montagna cortonese e nei rilievi della Valtiberina, i passi montani per il momento sono tutti transitabili.